Ciao ragazzi, oggi parleremo delle proprietà delle noci di macadamia. Le noci di macadamia appartengono alla famiglia della frutta seccoleosa e come tutte sono ricchissime di grassi, grassi nobili. In particolare le noci di macadamia contengono un altissimo quantitativo di grassi nobili, circa 76 grammi ogni 100 di grassi di vario genere, da saturi a polinsaturi soprattutto. Dall'altra parte ha pochissimi carboidrati, 5 grammi e 8 grammi di proteine. Le noci di macadamia contengono anche una buona quantità di rame ma soprattutto la tiamina, indispensabile al buon funzionamento della funzionalità cardiaca. Uno dei vantaggi di utilizzare le noci di macadamia come spuntino, magari metà mattina o metà pomeriggio, sicuramente è l'alto potere assaziante. Infatti ingerendo qualche noce di macadamia ci accorgeremo sin da subito di essere sazi e di fare fatica quasi a finirne la nostra razione. Una razione quanto può essere? Solitamente di frutta seccoleosa si consigliano circa 30 grammi come spuntino, in questo caso sono 20 noci di macadamia. Quindi benvenga l'utilizzo di questo tipo di frutta seccoleosa, attenzione senza l'utilizzo e l'aggiunta di sale è importante e dall'altra parte ci renderemo conto come ottima soluzione di spuntino per saziarci anche a lungo fino magari a cena. Ciao se ti è piaciuto questo video condividilo con i tuoi amici e seguimi sui miei canali digital. Ciao e al prossimo video!